Bene, abbiamo visto gli effetti della comunicazione analogica nel rapporto con se stessi, negli effetti decompressivi dei ricordi del passato, ma non dimentichiamo gli effetti sulle nostre relazioni con gli altri. Parliamo di consenso, di fascino, di carisma, di incontro con gli altri. Dunque, l'esperimento che abbiamo visto riguarda la ristrutturazione personale, ossia come mettersi in contatto con il proprio inconscio per poter armonizzare se stessi. Questo è molto importante perché ci permette di vivere bene e ci permette di vivere nel benessere, in sostanza. Poi è chiaro che dobbiamo affrontare anche la qualità della vita e la qualità della vita vuol dire gestire con eccellenza le relazioni sentimentali e affettive della nostra vita, ma anche quelle autorealizzative. E quindi abbiamo bisogno di poter interagire anche con l'inconscio dei nostri interlocutori, in sostanza, non solo con il massimo interlocutore che è il nostro inconscio, ma anche con quello degli altri. E allora ecco che quindi abbiamo anche l'utilizzo di queste discipline analogiche nella comunicazione verso gli altri e non solo verso se stessi. Ecco, in questo caso vale lo stesso principio, ossia quello di poter sensibilizzare l'inconscio del nostro interlocutore attraverso stimoli appropriati, sono possibili attraverso l'utilizzo del sistema energetico di comunicazione come quello simbolico e come quello praticamente delle analogie. Attraverso questi tre sistemi di comunicazione noi siamo in grado di sensibilizzare l'inconscio del nostro interlocutore e questo è necessario per far sì che noi possiamo ottenere quell'assenso e quel consenso di cui abbiamo bisogno per poter, nel miglior dei modi, conquistare la qualità della nostra vita. Quindi, dicevamo, la formula ideale, se ne esiste una, perché un rapporto duri nel tempo, sta proprio in questo equilibrio dei servizi emotivi, cioè un rapporto deve nutrirsi di servizi emozionali. Insomma, le emozioni sono il motore, come abbiamo detto all'inizio della nostra vita, e garantiscono l'alimentazione energetica del sistema. Naturalmente, in questo servire emozioni, che spesso possono assumere anche la veste di piccole tensioni, e bisogna anche saper calibrare. Ecco. Noi abbiamo una regola fondamentale che dice nella vita chi penalizza sarà gratificato e chi gratifica sarà penalizzato. Questa sioma si basa sul concetto che la gratificazione è un appagamento, in sostanza, delle esigenze altrui, o anche delle nostre. La penalizzazione, invece, è una rigenerazione. Ora, è chiaro che dobbiamo valutare diversi aspetti fondamentali di necessità all'interno delle relazioni sociali, perché potremmo trovarci in condizioni di aver bisogno di un aggancio, quindi di un aggancio emozionale, ma potremmo trovarci anche nelle condizioni opposte, quelle di aver bisogno di uno sgancio, ossia di far sì che la persona emotivamente possa sganciarsi nei nostri confronti. E quindi ci sono delle procedure, delle tecniche specifiche di comunicazione analogica che ci permettono di governare quando c'è bisogno l'aggancio emotivo-emozionale e quando c'è invece bisogno dello sgancio anche questa possibilità. E di superare anche la famosa situazione per la quale ci si innamora sempre della persona sbagliata, ad esempio? Questo è uno dei possibili eventi. È chiaro che questa persona sbagliata è secondo l'ottica della logica, in quanto praticamente vuol dire che quella persona è rigenerante oltre misura in sostanza. Ma noi ci chiediamo, se questo interlocutore, questo partner, visto che abbiamo parlato dell'amore, è maggioritario oltre misura, quindi rigenera più di quanto la parte logica della persona ne ha bisogno. Quindi risulta essere troppo penalizzante e perché non lo chiudi questo interlocutore, perché non lo sganci? Ecco perché ci sono anche metodi di sgancio. In quanto è vero che la nostra parte logica lo rifiuta o lo ritiene disturbante, questo partner, ma è anche vero che invece l'inconscio lo trova assolutamente importante e quindi va a sabotare l'istanza logica in ogni suo tentativo tendente a destabilizzare appunto questo partner. Destabilizzare vuol dire privarlo del suo potere di affascinazione nei nostri confronti. E quindi naturalmente ciascuna di queste due stanze opera a modo proprio per... l'inconscio per difendere questa fonte di stimolazione e la parte logica naturalmente per neutralizzarla. Ecco, spieghiamo anche perché l'inconscio tende a difendere questa fonte di stimolazione, perché gli consente di ricelebrare dei turbamenti. Ah, questo è molto importante. Come avviene lo stimolo rigenerante? Avviene attraverso una celebrazione. La celebrazione degli eventi che per analogia sono legati al passato e che si ripropongono nel presente con il comportamento di questa persona. Quindi in altri termini le celebrazioni sono molto importanti. Ogni forma di ipnosi regassiva si basa, o di regassione se vogliamo, perché poi dobbiamo ben chiarire il termine ipnosi che è semplicemente non uno status, ma un modello di comunicazione. Quindi è importante definire questo aspetto perché tante volte si parla di ipnosi regressiva o di regressione semplice. Qual è la differenza? La differenza è che la regressione panotica è impregnata di emotività rispetto alla regressione semplice che è dato un rivivere, ricordare eventi del passato. Quindi una regressione senza emozioni non è una regressione panotica. Una regressione con emozioni è una regressione panotica. E il lato celebrativo può essere di tipo emozionale come può essere di tipo di racconto in sostanza o di ricordo, di rimembranza. Bene, quindi possiamo ben dire che una relazione efficace passa necessariamente e imprescindibilmente per un nuovo rapporto con la nostra sfera emozionale, con il nostro inconscio. Tutto sta nella possibilità come abbiamo detto di poter interagire con l'inconscio grazie finalmente a questi linguaggi emotivi, a queste discipline. Pertanto si rivoluziona tutto il sistema di approccio culturale di filosofia stessa con noi stessi. Esiste questa nostra distanza logica con cui possiamo negoziare, ma questo già lo sapevamo prima, attraverso la nostra coscienza. Ma fino ad oggi era impedito negoziare con il nostro inconscio e quindi con i nostri sogni. Oggi è possibile fare anche questo. La nostra coscienza può interagire con i nostri sogni senza, non attuando modelli costrittivi che poi inevitabilmente comportano aspetti compulsivi per reazione, ma addirittura attraverso dei compromessi, dei negoziati, esattamente come viene fatto con la nostra distanza logica. Un nuovo sistema di vita che ci permette quindi di vivere meglio nel benessere. E questa è proprio la filosofia analogica. Cioè l'obiettivo di questo sistema empatico e emozionale. E' chiaro che, ripeto, tecnicamente è la conoscenza dei linguaggi emotivi e l'aver preso atto dell'esistenza di una mente intelligente anche inconscia, cosa che non era, fino ad oggi, assolutamente presa in considerazione. La capacità di poter dialogare con questo pensiero, quindi in questo caso, visto che c'è intelligenza, c'è pensiero, con la nostra istanza inconscia, è la grande novità che può veramente alleviare nell'uomo le proprie sofferenze, in quanto è possibile in tempi brevissimi raggiungere un benessere con noi stessi, benessere inteso come armonia, benessere inteso come abbattimento di quelli che possono essere comunemente definiti disturbi dell'emotività, del comportamento, ma perché nascono proprio da una disarmonia con noi stessi e con quindi tra il rapporto tra il rapporto con l'istanza logica e l'inconscio, ma anche la qualità della vita, ossia migliorare la comunicazione, quindi non solo potersi ristrutturare, ma anche meglio comunicare per ottenere assenso e consenso. Quindi, diciamo così, una nuova libertà, la libertà di essere attivi rispetto a se stessi e non più passivi rispetto ai propri vincoli, alle convinzioni limitanti, avere un rapporto, come dire, in prima persona con noi stessi, con l'interezza di noi stessi e poter scegliere, quindi, e non più, come dicevamo prima, subire le nostre stesse paure, le nostre stesse limitazioni. Io credo a un grande contributo per l'umanità, devo dire, la conoscenza delle discipline analogiche. Grazie per la visione!